sia stato fatto da voi. Allora, riagganciamoci ai nostri cicli e vediamo di andare un pochino avanti con la sintassi e così riusciamo anche a dedicare un po' di tempo a fare qualche esercizio un pochino più interessante. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto l'istruzione WHILE, che è utile per costruire dei cicli governati da una condizione. La condizione ci permetteva di interrompere il ciclo o sulla base di un contatore, cioè quando un contatore aggiungeva un certo livello, oppure sulla base di una condizione booleana più generale, che quindi permetteva di definire delle condizioni di iterazione o determinazione del ciclo più complesse, che dipendessero da qualche evento, da qualche condizione che si verificasse via via. Un caso particolare di ciclo, con una sintassi semplificata, è il ciclo invece che viene introdotto dalla parola chiave FOR. In particolare FOR IN è una coppia di parole chiave che si usa per introdurre questo tipo di cicli. Un ciclo FOR è un ciclo che itera su un contenitore. Cioè mentre il ciclo WHILE normalmente lavora su un contatore, su una variabile che evolve, il ciclo FOR presume è di avere un contenitore, per ora conosciamo un tipo di contenitore che sono le stringhe, che contengono i caratteri. Poi impareremo altri tipi di contenitori e itera su ogni singolo elemento di quel contenitore. Quindi ad ogni nuova iterazione il ciclo FOR automaticamente passa da un elemento, dal primo elemento, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto. Quindi tutte le volte che io ho degli elementi che sono messi in fila, ad esempio come i caratteri di una stringa, però questo concetto è molto più generale quello di contenitore, quindi ogni volta che ho degli oggetti contenuti in un contenitore io posso impostare un ciclo che dica, senti, fai una iterazione del corpo del ciclo per ogni elemento di questo contenitore. E quindi una dopo l'altra vengono presi in considerazione tutti i singoli elementi. Allora, noi conosciamo per ora la stringa che è un contenitore di caratteri, ma tra due settimane conosceremo le liste che saranno un contenitore di oggetti qualsiasi, i file che sono contenitore di linee o caratteri di testo e così via. Quindi questo concetto di contenitore è molto ampio, noi lo vediamo sul caso semplice, finora conosciamo le stringhe, immaginiamo di voler considerare un ciclo in cui stampo una per una le lettere di un nome, in questo caso il nome di uno stato americano. Allora che cosa fa? Beh, facessi print state name mi stampa semplicemente questo, ma io voglio stampare le lettere una sotto l'altra, v, h, i, h, r, h, g, h, i e così via. Uno sotto l'altra. Quindi devo fare tante print separate, prima devo fare la print della v, poi faccio la print della i, poi della r e così via. Quindi devo fare tante volte la print di una lettera e vabbè, è facile, vado a impostare un ciclo while così come lo conosco già, avrò un contatore i che mi indica l'indice della lettera che voglio stampare che parte da 0, ogni volta incremento questo contatore e ogni volta la lettera che stamperò sarà la lettera di indice i del nome dello stato. E quindi la prima volta i vale 0 e stamperò lettera uguale a state name di 0 e stampo questa, poi si incrementa i e così via. Quindi state name di 1 stamperò la i minuscola, poi si incrementa i, state name di 2 sarà il terzo carattere, cioè la r minuscola e così via. Questo lo sappiamo già fare. La versione sotto col ciclo for è più semplice, in questi casi è più semplice perché guardate for letter in state name. Itera nella stringa che si chiama state name e ogni iterazione pesca una lettera. Quindi automaticamente viene gestito l'indice, di fatto non c'è più l'indice i, è come se venisse sottinteso, gestito automaticamente, e questo ciclo for ripete il suo corpo che in questo caso è costituito dalla sola istruzione print. C'è una variabile di controllo del ciclo, esplicita, for letter letter è la variabile di controllo del ciclo, in questo caso, che ad ogni iterazione assume un elemento nuovo della contenitore che è specificato dopo la parola chiave in. Quindi state name è una stringa, viene vista come contenitore di singoli caratteri e ciclo for esegue una iterazione per ogni carattere che è contenuto dentro questo contenitore. Quindi questa stringa virginia viene vista come un contenitore che contiene la v, poi la i, poi la r, poi la g. Allora vuol dire che il primo elemento contenuto è la v maiuscola e la prima iterazione di questo ciclo for viene stampata la v maiuscola. Alla seconda iterazione viene stampata la i minuscola perché il secondo elemento è così via. Questa letter è una variabile che viene gestita, questa variabile di controllo del ciclo for viene gestita automaticamente dal ciclo, quindi non serve inizializzarla, come chiede Tommaso, non è necessario inizializzarla prima, si inizializza da sola alla prima iterazione, in certo senso. E questo è un tipo di contenitore. Un altro contenitore, e poi così rispondo anche a Melissa, che non conosciamo ancora, è generato da una funzione che si chiama range. Quindi finora con questa sintassi possiamo iterare carattere per carattere sulle stringhe. Quindi gli esercizi che facciamo la settimana scorsa, in cui vado a vedere se c'è almeno un carattere maiuscolo, se ci sono due caratteri consecutivi uguali e così del genere, qua si possono semplificare, ma finora è una semplificazione, diciamo così, poco più che sintattica. Mi fermo un attimo perché c'è una domanda di Alessandro che secondo me un pochino si collega a quella di Tommaso. Attenzione che letter non è l'indice, ha il carattere. Cioè mentre qui la variabile di controllo è i, e i assume i valori 0, 1, 2, 3, nel ciclo for la variabile di controllo è letter, e letter è assumer già i valori, non gli indici. Quindi letter non vale 0, 1, 2, ma vale V, I, R, G. Infatti vedete che non c'è nessuna istruzione qua sotto in cui prendo state name di qualche cosa tra parentesi quadra. Quindi va già subito a prendere il valore, non l'indice per cui poi devo andare a recuperare il valore. Dicevo, parlavo invece della funzione range. La funzione range è una funzione che genera un contenitore di numeri interi. Quindi la funzione range a cui passa un valore, un parametro n, un argomento n, crea una sequenza di numeri interi che vanno da 0 a n-1. Quindi da 0 fino a minore di n. Vabbè, ormai questa moda strana di contare a partire da 0, ormai l'abbiamo un pochino, stiamo cominciando a farci l'abitudine. Quindi se una sequenza di n numeri, una sequenza di n numeri sono tutti i numeri che vanno da 0 a n-1. Quindi il range di 10 mi darà i numeri interi tra 0 compreso e 9 compreso, cioè 10 escluso. Quindi in qualche modo, usando questa funzione range, che mi crea questo contenitore strano, che è un contenitore di numeri, posso con un for costruire e emulare quello che è un ciclo while controllato da un contatore. Qui vediamo l'equivalenza, ciò che avevamo visto prima, in questo caso stampo i numeri da 0 a 9, e qui faccio esattamente la stessa cosa. Avevo un ciclo while controllato da un contatore, anzi da 1 a 9 era questo, controllato da un contatore, inizializzato 1 e l'ultima iterazione era i minore di 10, quindi l'ultima iterazione era i uguali a 9, e quindi stampavo i numeri da 1 a 9. La stessa cosa la faccio qua sotto. Allora, cosa succede qua? La funzione range mi genera un contenitore. Questo contenitore contiene i numeri da 1 a 9. 1 compreso, 10 escluso, quindi da 1 a 9. Poi, con l'istruzione for, itero sul contenuto di questo contenitore, quindi ad ogni nuova iterazione il valore di assumerà il valore di uno dei numeri contenuti in questo contenitore di numeri, in questo range, diciamo che range è un pochino più veloce rispetto a dire contenitore ogni volta, contenitore di numeri. Quindi il range contiene 1, 2, 3, eccetera, fino a 9, al ciclo for, ogni volta che viene eseguito, assumerà la prima volta il primo valore, 1, la seconda volta il secondo valore, i due, e così via, fino all'ultimo valore, 9. Quindi questo è un modo più sintetico, ogni volta che abbiamo un ciclo while, che vorremmo controllare con un contatore, e sappiamo esattamente il valore di partenza e il valore di arrivo di questo contatore, beh questo lo possiamo scrivere in modo più semplice, risparmiamo un paio di istruzioni, con una for range, for in range. In questo caso non serve l'inizializzazione uguale 1, perché il primo elemento del range è già 1, non serve l'incremento del contatore, perché ogni volta passa all'elemento successivo della sequenza del range che è già incrementato di 1. Quindi vediamo un attimo i vostri dubbi, range di n ci dà un contenitore di numeri che va da 0 a n-1? Sì esattamente, posso far puntare due variabili allo stesso valore in un for? Non ho tanto capito cosa intendi, Matteo, con questa domanda. Alessio mi chiede se al posto di Virginia ci fosse stata una sequenza di numeri, si poteva usare quello come contenitore la risposta è sì, ma noi non sappiamo ancora come costruire una sequenza di numeri, la impareremo, si chiama la lista, sarà il modo per costruire una sequenza che contiene all'interno dei numeri e non dei caratteri. Quindi questa è la sintassi semplice dell'istruzione for, ma non è nulla di più e soprattutto si usa o per iterare su una stringa o su un contenitore di altro tipo oppure usando la funzione range. Allora vediamo un attimo come funziona questa funzione range che cosa tira fuori. Allora la funzione range può essere chiamata in tre modi diversi, così rispondo a tutta questa tornata di domande che state facendo. Con un argomento, con due argomenti, con tre argomenti. Con un argomento mi genera un contenitore con i numeri che vanno, in questo caso l'argomento qua è 5, con i numeri che vanno da 0 a n-1, al valore dell'argomento meno 1. Quindi se è il range di 5 mi genera una sequenza di 5 numeri, 0, 1, 2, 3, 4. Quindi parte da 0 fino a 5 escluso. Se io specifico due argomenti, il primo argomento indica il valore di partenza, compreso, il secondo argomento indica il valore di arrivo escluso. Quindi 1, 5 mi darà 4 valori, 1, 2, 3, 4. Perché l'1 è compreso, il 5 è escluso. Ok? Quindi mi dicevate range 2, 15 mi darà i valori da 2 a 14. Sì, se voglio stampare anche il numero 10 dovrei scrivere da 1 a 11, esatto, perché 1 compreso, va bene, me lo stampa, 11 escluso, non me lo stampa più, ma il 10 me l'ha stampato, o il 10 me l'ha considerato. E così via. Simone mi dice se il range di 1, 10 è equivalente a range di 10, no, perché il primo valore sarebbe sortinteso 0, non 1. E ci esiste una terza forma dell'istruzione range, addirittura con tre argomenti, quando noi vogliamo che l'incremento non sia un incremento di 1. Quindi ad esempio qui mi dice mi incrementa ogni volta di 2. Quindi 1 passerà a 3, passerà a 5, passerà a 7, passerà a 9. Cioè ogni volta anziché incrementare di 1, 2, 3, di 1 unità, incrementa di 2 unità. Ok? Quindi vedete che in questo caso i valori sarebbero stampati solamente i valori dispari. Quindi ci sono queste tre forme di istruzione range, di grano lunga si usa la prima, ma si possono costruire sequenze di numeri con questa regoletta semplice. Valore di partenza, valore di arrivo che è sempre escluso e passo di incremento. Tenete presente che il passo di incremento può anche essere negativo. Quindi posso scrivere anche meno 1 e quindi se voglio contare da 10 a 0 o da 10 a 1 in ordine contrario farò range 10,0, virgola 0, virgola meno 1. 10 parte da 10, virgola 0 arriva fino a 0 escluso, quindi 1 compreso e ogni volta decremente di 1 l'unità. Ok. C'è un paio di domande al volo. Andrea mi chiede cosa vuol dire iterare. Iterare vuol dire ripetere, ripetere più volte. Il comando di letter? Letter non è un comando ma è semplicemente un nome di una variabile. Il nome che ho dato una variabile che contiene, quello che tu ti riferisca a questa istruzione, è il nome della variabile che conterrà ad ogni iterazione o ad ogni ripetizione il carattere successivo della stringa. Alessandro mi chiede potrei usare range per creare una sequenza di numeri non interi? No. Non lo puoi usare, range genera numeri interi, però se tu hai una regola che dai numeri interi puoi generare dei numeri non interi, che sono la radice quadrata di i, lo puoi fare, però devi calcolarti il numero a partire dal valore intero. Range lavora solo con i numeri interi. 0, 11, 2 fa solo i numeri pari, certamente. Al posto di i posso mettere qualsiasi lettera o parola, al posto di i posso mettere qualunque variabile, certo, il nome della variabile che preferisco. Scelgo io che nome dare alla variabile che sarà usata per controllare il ciclo. Quindi i si usa quando devo contare, di solito i e j sono le variabili che mi servono per contare le iterazioni, i giri, però posso usare qualunque tipo di nome, soprattutto se è un nome che mi aiuta a capire che cosa sto facendo, che mi significato di quel valore. Udoi mi chiede se scrivo range 1, 10,2, non dà errore ma non esegue il ciclo, perché è già subito al di fuori del valore massimo, quindi di fatto è un ciclo che non viene eseguito. Giulia ha già risposto di sì, che ogni volta che faccio print vado a capo, vedremo, non so se ce lo facciamo già oggi o domani, vedremo un modo per impedire alla print di andare a capo se dobbiamo farlo. Emanuele mi chiede che se voglio fare un range da 10 a 0, devo per forza mettere un argomento negativo. Angelo mi dice no, ci ho appena provato, cosa vuol dire che lui capisce da solo che deve andarlo indietro? Se scrivesse range 0,10 vado a 0,9. Quindi se vogliamo, e qui ci sono alcuni altri esempi che applicano la regola generale, li trovate qua sulla slide che in realtà poi è presa dal libro, ogni volta che dovete iterare, questo da 10 a 16 parte da 10 arriva fino a 15, 0,9,2 parte da 0, ecco attenzione che il punto di arrivo è 9, avrei potuto anche scrivere 10 sarebbe stato lo stesso, ok? Perché stampa l'8, poi incrementa di 2 unità e va a vedere il valore incrementato se è maggiore o minore, cioè se è ancora minore del limite massimo, in questo caso sia che io metta 9 sia che io metta 10, l'ultimo numero che mi stampa è comunque un 8. Ah ok, sono d'accordo con Angelo, il meno 1 bisogna metterlo, in ogni caso, quindi se vado all'indietro sono obbligato a mettere il terzo argomento, altrimenti lui andrebbe avanti, metterebbe un più 1 e quindi si ferma, cioè non fa nulla se il punto d'arrivo è minore del punto di partenza. Allora, vediamo, vabbè questo qui è un esempio, vediamo questo non lo trovo più, ok? Quindi, quello che abbiamo detto è, immaginiamo ad esempio uno di voi mi chiede come faccio a fare la somma dei numeri da 1 a 10, che è un esercizio che abbiamo già fatto in laboratorio, però là l'abbiamo fatto in modo brutale, 1 più 2 più 3 più 4 più 5, e in questo caso lo possiamo fare con un ciclo for, quindi la somma, l'inizializzo a 0, e poi voglio sommare i numeri n da 1 a 10, quindi mi crea un range che mi genere tutti i numeri da 1 a 10, quindi quello dovrò scrivere qua? 1,11, poi il solito due punti, perché due punti chiaramente mi chiede il blocco, e farò a questo punto somma uguale somma più n. Quindi ad ogni iterazione, ad ogni ripetizione di questo ciclo for, il valore di n assumerà un valore successivo rispetto all'intervallo che abbiamo generato, e questo intervallo contiene i numeri 1, 2, 3, fino al 10, 10 compreso, e quindi alla fine dell'iterazione, qui l'ho chiamato n anziché i, perché mi ricorda più il fatto che è il numero che voglio sommare, e quindi sommo alla somma, è un classico accumulatore, per cui posso postampare il valore di somma, che in teoria dovrebbe essere 55, la somma dei numeri da 1 a 10. Paolo mi chiede, se io avessi scritto semplicemente 11 senza l'1, andrebbe bene sì e no? In questo caso sì, perché il primo numero, se io metto così, range di 11, fa un'iterazione in più, e la prima iterazione la fa con n uguale 0. In questo caso n uguale 0 non cambia il risultato, perché lo sto sommando, però non mi piace tanto fare un'iterazione che in realtà non dovrei fare, quindi preferisco dire esattamente qual è il punto di partenza, perché poi se facessi altre operazioni, tipo una moltiplicazione anziché una somma, moltiplicare per 0, chiaramente un impatto sul risultato ce l'ha ovviamente. Questa stessa cosa la posso anche fare al contrario, per assurdo, in questo caso ovviamente la somma non cambia, però se io provassi a scrivere 10, facciamo lo contrario, 10 a 1, dovrei scrivere un range che va da 10,0. In questo caso mi stampa 0, perché? Perché essendo un range, lui dice qual è l'intervallo di numeri che parte da 10, si incrementa di 1 ed è sempre minore di 0? Non esiste. Non esiste una sequenza di numeri che parte da 10 e sia minore di 0 contemporaneamente. A meno che io non voglia, ovviamente, andare in modo decrescente, ma in questo caso devo dirlo esplicitamente, dandogli un meno 1 come terzo parametro e ovviamente la somma farà 55, perché è la stessa di prima. Ecco, notate che c'è una certa asimmetria. Se io vado avanti e voglio numeri da 1 a 10, dovrò scrivere, come abbiamo scritto prima, range di 1,11. Se invece vado indietro, scriverò 10,0, perché il primo deve essere sempre l'elemento compreso nel range che voglio generare, il secondo parametro invece è sempre il primo escluso, quindi il valore escluso. Ma si tratta un attimo solamente di abituarsi, in certo senso, a ricordarsi che il secondo elemento è escluso. non è obbligato a beccare esattamente il numero. Quindi se io facessi 4n in range di 1,11,3, ok? Quindi togliamo un attimo questo, lo mettiamo come commento, lo mettiamo sotto, tanto per ricordarcelo. Cosa fa questo? Sommerà 1 più sommo 3, 4, più sommo 3, 7, più sommo 3, 10, e poi andrebbe, la volta dopo, farebbe 10 più 3, 13, che supera già l'11. Quindi somma questi 4 valori qua. Mi da 22. Non importa se il conteggio, lo step, non arriva giusto al punto di arrivo. Ok? Non so se ho colto il problema che qualcuno di voi è scritto nella chat. La prima volta che io facessi un tentativo di portare n un valore maggiore o uguale del limite superiore, lui esce. Quindi la regola è, lui ripete, itera, fintanto che la variabile di controllo è minore, minore strettamente, non minore uguale, del punto di arrivo. E l'incremento lo incrementa della quantità e poi prima incrementa e poi va a vedere se è ancora minore oppure no. Se non è più minore, esce. Se è ancora minore, non uguale, minore, ripete ancora una volta il ciclo. La parolina chiave in è semplicemente per separare la variabile di controllo dal contenitore, dal range. Quindi fa parte della sintassi del for, non è che abbia un significato particolare. Il for è fatto di queste due parole, for, variabile di controllo, in, contenitore. Si scrive così, è fatto di quattro pezzettini. Due parole chiave, for e in, e due variabili, la variabile di controllo e il contenitore. Se dovessi stampare i numeri dispari da 1 a 9, dovessi scrivere da 1 a 10, sì esatto, 1 a 10, 2, o 1 a 11, 2 sarebbe esattamente equivalente. Quindi questo è il modo per costruirci da soli i range e quindi, in qualche modo, semplificarci la vita quando dobbiamo fare un ciclo controllato da una variabile di controllo e quindi sul numero di iterazioni. Ma poi, ricordatevi, alla fine è sempre un ciclo. Quello che abbiamo imparato con i cicli while continua ad essere valido. Ok? Assolutamente. Questa è solo una scorciatoia in cui, diciamo così, uno sintassi più semplice, diciamo così, non corriamo il rischio di dimenticarci di inizializzare il contatore, non corriamo il rischio di dimenticarci di incrementarlo, non corriamo il rischio di confondersi tra minore e minore uguale, perché fa già tutto lui, in un certo senso. Ok? Quindi, con range iteriamo su una sequenza di numeri interi, oppure con una stringa iteriamo sui singoli caratteri di quella stringa. L'unica difficoltà è sempre ricordarsi che il valore finale non viene considerato con minore uguale, ma viene sempre considerato con minore sulla condizione di terminazione, e quindi il primo limite è sempre incluso, quello finale è sempre escluso, e la regola generale è che il numero di ripetizioni è sempre uguale alla differenza B-A. con step 1. Cioè, se noi, scusate, il nostro esempio che abbiamo fatto prima, che vado a pescarlo, era questo, 1-11, noi sappiamo, l'1 è compreso, l'11 è escluso, e quante iterazioni fa? 11-1 ne fa 10. Esattamente 10. Quindi, la differenza tra i due parametri del range mi dice esattamente quante volte verrà ripetuto il corpo del ciclo. Quindi è un po' strano che l'ultimo e il secondo valore sia escluso, però in realtà è più semplice così, perché mi permette di vedere più facilmente quante volte itero. E quindi, il caso particolare di for n in range di 40, ad esempio, dove sottinteso è 0 e se vedo range di 40 vuol dire che farà 40 volte una certa cosa. Poi lo farà da 0 a 39 e va bene, con il valore di n che va da 0 a 39, ma l'importante è che lo fa 40 volte. Questo dal punto di vista dei numeri. Abbiamo visto che lo stesso for lo possiamo usare anche sulle stringhe, quindi se noi abbiamo, ad esempio, il nome uguale informatica, noi potremo fare un ciclo che prende una per una le lettere del nome. In questo caso lo scriveremo così. Per ogni lettera che è presente nel nome. In questo caso usiamo il concetto è lo stesso, ma chiaramente la realizzazione è molto diversa. Questa volta il mio contenitore non è un contenitore di tipo range, ma è un contenitore di tipo stringa. E quindi ad ogni ripetizione del ciclo la variabile di controllo che ho chiamato lettera, la posso chiamare Z, la posso chiamare I, chiamatela come volete, la posso chiamare carattere, assumerà la prima volta la I maiuscola, la seconda volta la N e così via. E quindi potrò stampare, ad esempio, la lettera e mi stamperà ogni volta che faccio print mi stampa una volta la lettera successiva. Quindi vedete che mi stampa la prima volta I, poi va a capo, la seconda volta N, poi va a capo, la terza volta F, poi va a capo e così via. Ma qui non è semplicemente solamente nome, io qua ci posso mettere qualunque stringa. Quindi esempio, se questa cosa qua la volessi mettere tutto in maiuscolo, lo potrei fare, a ogni iterazione mi va a prendere il successivo elemento di questa sequenza, in questo caso questa sequenza è la stringa convertita in maiuscolo. Infatti vedete che ogni elemento prende il carattere successivo di questa espressione di tipo stringa. Oppure io volendo, non so, potrei complicarmi la vita, ci metto un asterisco davanti e un asterisco dietro, e questi vanno a far parte della stringa. E per dire, qua ci posso mettere, dopo la in, posso mettere un'espressione complicata quanto voglio, purché sia di tipo stringa. E allora, a questo punto, il ciclo for viene ripetuto una volta per ogni carattere, in questo caso, risultante dalla stringa che ho composto, usando le funzioni e i metodi delle stringhe. La domanda di Salvatore, la risposta è no, almeno non è il scopo del ciclo for, quello di intrudere i ritardi, ma lui stampa la massima velocità che può, cioè itera la massima velocità che può. Matteo mi dice, come fa a capire che cos'è una lettera? A parte che capire non è un verbo dato a una macchina, ma semplicemente una stringa è composta da tanti caratteri, se io stampo questo, questa cosa qui, sarà, questa è una stringa composta di un certo numero di caratteri e ogni volta ne prende uno per volta, cioè non c'è possibilità di confusione, un carattere alla volta, il carattere può essere una lettera, un segno di punteggiatura, uno spazio, un numero, una cifra numerica, un singolo digit, una singola cifra numerica, e così via. Le stringhe, abbiamo visto un paio di settimane fa, sono sequenze di caratteri, quindi sono composte da particelle elementari che sono i singoli caratteri che abbiamo visto che sono i caratteri che possiamo pescare dalla tabella ASCII o dalla tabella Unicode dove ci sono tutti i caratteri possibili. il difetto di questa seconda forma ad esempio se io lo riscrivo ancora una volta for carattere in nome la CH che prima ho chiamato let ma qui lo cambio solo per così ci abituiamo a cambiarci non ci fossilizziamo sul nome ma sul significato assume ogni volta il prossimo carattere però se io volessi scrivere il quinto carattere cioè volessi scrivere 1 i 2 n 3 f e così via non ho più questo numero ok? non so più io so che a un certo punto il carattere CH sarà una F perché in informatica c'è la F ma se mi servisse conoscerlo non saprei dove è messa questa F se siamo il primo il secondo il terzo il quarto giro questo si può ovviare iterando non sui valori ma sugli indici e quindi io potrei dire non iteriamo sui carattere ma iteriamo sugli indici che vanno da 0 alla lunghezza della stringa e quindi possiamo scrivere nome di eventualmente anche con i affiancato allora vediamo cosa fa in quest'ultimo caso e poi commentiamo in quest'ultimo caso mi stampa 0 i 1 n 2 f 3 o e così via cioè ad ogni ripetizione ad ogni iterazione mi stampa un valore di un indice e il valore del carattere che è memorizzato in quella posizione all'interno della stringa nome quindi in questo caso posso avere sia l'indice che procede 0 1 2 3 sia il carattere corrispondente cioè l'elemento corrispondente in quella posizione della sequenza e guardate come è fatto il range il range va da 0 alla lunghezza della stringa e quindi il primo valore che assume l'indice i sarà 0 l'ultimo valore il valore massimo che assume l'indice i sarà la lunghezza della stringa meno 1 perché sappiamo che il valore finale è sempre escluso ed è giusto perché ci ricordiamo della volta scorsa che i caratteri della stringa vanno da 0 alla lunghezza meno 1 quindi l'ultimo che prendo la A di informatica è il carattere numero 11 che vive alla posizione numero 10 l'EN di informatica vale 11 l'ultimo carattere è nome di 10 che corrisponde all'A minuscola finale e quindi diciamo questa forma così condensata tutto quadra ecco il fatto che l'EN ti dia la lunghezza ma il carattere in realtà sta solo fino a quello meno 1 e il range esclude l'ultimo elemento e sono una somma di stranezze che fa sì che poi alla fine nello scrivere le istruzioni tutto fili liscio e non debba mettere un più uno un meno uno per aggiustare le cose ok la domanda che ha fatto Emanuele che era qua sopra riprendiamola qua perché secondo me c'è un dubbio ancora a questo livello quindi lo faccio più semplice allora qual è la differenza tra queste due istruzioni questi due blocchi di istruzioni ok allora la differenza facciamocela dire dal debugger quindi fatemi buttare via questo pezzo qua perché se no non ci passa più e partiamo da qua eseguiamo questo esercizio in modalità passo passo e così vediamo cosa succede e chiediamo al computer di aiutarci ok allora la prima istruzione è semplicemente imposta una stringa nome uguale str informatica ok adesso entro in un ciclo for un ciclo for in cui la variabile nome appunto ha questo valore informatica la variabile let l'ho chiamata let la potevo chiamare in qualunque modo l'ho chiamata let perché mi ricorda che è una lettera ok per il momento non è ancora definita se vado a vedere qua sotto non c'è nessuna variabile che si chiama let faccio un passo faccio un passo entro nel ciclo for quando entro in un ciclo for lui va a vedere qual è il contenitore su cui iterare il contenitore è una stringa che si chiama informatica e quindi ripeterà tante volte il corpo del ciclo che in questo caso il corpo è costituito solamente dalla linea 4 una volta per ogni elemento contenuto nel contenitore allora la prima volta lui cosa fa prende il primo elemento del contenitore cioè la i il primo elemento contenuto e lo segna la variabile let la variabile che ho dato io e quindi let uguale i maiuscolo e infatti me la stampa qui a destra vediamo la console poi lui si chiede vedete che l'istruzione è tornata alla riga 3 devo ancora andare avanti e si perché la stringa non è finita il contenitore non è esaurito allora vado avanti e la lettera a questo punto sarà n che è il secondo elemento del contenitore let è stato adesso assegnato a n non più a i lo vedete qua la variabile di controllo del ciclo ad ogni iterazione ad ogni ripetizione si pesca il valore dopo dell'elemento successivo e quindi in questo caso stampa n e me l'ha stampato qua a destra poi torna su e si chiede è finita sta benedetta stringa no e allora passiamo all'elemento successivo f questa volta let vale f quindi stamperò farò una print di f e va avanti così vado un po' antiveloce o r m a t i c a questo punto sono all'ultima iterazione sono all'ultima iterazione la variabile let assume il valore di a attenzione che questa lettera anche per rispondere ad andrea il corpo del ciclo quindi qui alla riga 4 lui non ha la possibilità di sapere se siamo su questa a cioè l'ultima oppure su quella che c'è a metà della parola per lui è un a è un contenuto del contenitore con questa forma del ciclo non c'è la possibilità di conoscere in che posizione del contenitore siamo se siamo all'inizio a metà quasi alla fine ma se lo facciamo così è perché non ci serve abbiamo quello dopo invece che usiamo quando ci serve dicevamo qui siamo all'ultima sappiamo che a è l'ultima viene ancora stampata ovviamente perché è ancora da fare è l'ultimo elemento del contenitore quindi stampo ancora la a che sarà qua sotto poi torna su e si chiede è finito il contenitore e questa volta si dovrà dire sì è finito plaf e sono andato e a questo punto ho finito le iterazioni di questo primo ciclo e ho stampato questa stringa così in colonna una sotto l'altra quindi ho preso uno per volte i caratteri di una stringa e li ho passati diciamo così al corpo di questo ciclo for in questo caso nel corpo facevo una cosa stupidissima la stampavo e basta vediamo cosa succede invece con la seconda forma la seconda forma invece è un ciclo che itera su una variabile i su un range su un intervallo di numeri un range che va da quanto? da 0 perché vediamo che la funzione range l'ho chiamata con 0 con un argomento solo quindi sottinteso il punto di partenza è 0 il punto di arrivo sarà len di 9 nome meno 1 quanto vale len di nome? vediamo quanto fa vale 11 l'ho chiesto sotto qua quindi vuol dire che i varierà tra 0 e 10 guarda caso tra 0 e 10 beh il nome di 0 è proprio la prima lettera di informatica e il nome di 10 è proprio l'ultima lettera di informatica quindi il ciclo farà assumere alla variabile i dei valori interi che corrispondono guarda caso agli indici dei caratteri nella stringa e quindi lo facciamo andare avanti la prima volta che entra viene i uguale 0 questo è un normalissimo ciclo come quelli che abbiamo fatto prima da 0 a 10 sì da 0 a 10 come quelli che facciamo prima semplicemente adesso questo numero che va da 0 a 10 0 1 2 3 4 lo usiamo per andare ad accedere alla stringa e pescare un singolo carattere e quindi stamperemo il valore 0 e nome di 0 che sarà l'abbiamo visto qua la I maiuscola e così via poi mi chiedo è finito il contenitore il contenitore cos'era? era un range da 0 a 11 quindi da 0 fino a 10 valore massimo è finito? no perché sono ancora 0 incremento di 1 e a questo punto stamperò 1 e il carattere che sta nella posizione 1 della stringa cioè nella seconda posizione nome di 1 e stampo 1 n e così via quindi alla fine faccio la stessa cosa ma ad ogni iterazione la variabile di controllo in questo caso assume un numero intero successivo e questi numeri interi saranno gli indici della posizione dei caratteri nella stringa mentre nel caso precedente la variabile di controllo assume già direttamente il valore del carattere una A una B una F una M quindi nel primo caso iteriamo sul contenuto della stringa nel secondo caso iteriamo sugli indici dei caratteri nella stringa è la stessa cosa la differenza è che nel secondo caso abbiamo il valore numerico dell'indice se mai ci dovesse servire per qualche cos'altro se invece ci serve solamente nome di I e quindi non stampassimo questa I qua beh sarebbero assolutamente equivalenti sarebbe esattamente la stessa cosa e sarebbe meglio del primo perché è più semplice ci tratta un po' di abituarci queste sono variabili di comodo variabili di controllo del ciclo che le usiamo hanno senso internamente al ciclo quando il ciclo è finito quella variabile non serve più a un granché ok la possiamo riusare è una variabile diciamo così in realtà la variabile esiste ancora così vedete che alla fine del ciclo let continua a valere A continua a ricordarsi per sempre dell'ultima lettera che ha visto vabbè ma fatti suoi non ci interessa a noi serve sapere qual è il valore che ha all'interno del ciclo perché è il valore che viene assegnato via via ai singoli elementi ok la domanda di Luigi sugli asterischi ha già risposto Emanuele è perché gli asterischi fanno parte della stringa era come se li mettessi qua dentro la stringa e quindi è il singolo carattere se io volessi gli asterischi ad ogni lettera dovrei fare una cosa di questo genere ok e quindi ad ogni print circondo la singola lettera con l'asterisco mentre invece prima avevo circondato l'intera stringa a due asterischi quindi mi stampava come primo e come ultimo ma togliamo questo che se no ci porta via Tommaso mi chiede se volessi far corrispondere alla I il numero 1 e non lo 0 basta che io stampi I più 1 anziché I gli indici non li decidi tu l'indice della stringa parte da 0 punto se poi tu vuoi per ragioni estetiche non stampare 0 ma stampare 1 vabbè te lo calcoli quell'1 no? hai uno 0 gli sommi 1 e così via e quindi stampi dei valori che abbiano base 1 anziché base 0 però la stringa avrà sempre per sua natura i caratteri che partono da 0 ok quindi il nostro cicloforo alla fine non è molto diverso bisogna solo familiarizzarsi un po' bene con questi range e capire bene se stiamo iterando con una variabile di controllo intera quindi che assume un certo numero di valori interi oppure oppure invece stiamo iterando su un contenitore vero proprio come può essere una stringa ah non avevo risposto alla domanda di prima che non mi ricordo più che l'aveva fatta ma l'ha rifatta Andrea adesso non so se l'ha già lui prima ma non è possibile usare in un cicloforo delle condizioni booleane condizioni che diventino vere o diventino false quindi non possiamo usare ad esempio dei flag per interrompere un cicloforo se abbiamo bisogno di fare delle iterazioni con delle condizioni booleane o delle condizioni diciamo più complesse questo and questo i minore di n e sentinella diverso da 0 come facevamo la settimana scorsa usiamo un ciclo wild non possiamo usare il cicloforo il cicloforo è nato per questo tipo di iterazioni blindate o un contenitore e devo prendere i singoli elementi quindi è uno strumento in più più comodo quando però ho quel vincolo che so che devo iterare su un numero ben noto a priori di casi se invece il numero di casi tra cui devo iterare non lo conosco prima userò un wild ci sono poi i trucchi più o meno subdoli come dice Michele c'è l'istruzione break che permette di uscire anzitempo da un ciclo però io preferirei non raccontarvela perché è sempre possibile diciamo così farne a meno e aiuta diciamo così il ragionamento chiederci qual è la condizione di uscita del ciclo e impostare un wild piuttosto che a certo punto a metà decide di uscire con un'istruzione break che interrompe le iterazioni anzitempo prima della fine naturale fare un for con un break dentro quando potete scrivere un wild che è molto più chiaro mi sembra andare semplicemente in cerca di complicazioni quindi se la domanda si può usare sì certo se la domanda ve lo spiego no perché diciamo così cerchiamo di orientarci su un modo più semplice non complichiamoci la vita però se la volete usare chiaramente lo conoscete lo potete fare su un ciclo alla fine il processo decisionale è sempre lo stesso devo partire il punto di partenza è cosa devo fare cosa devo ripetere allora in quel caso era ripetere semplicemente stampare dei numeri fare delle somme stampare delle lettere questo è il punto di partenza se io voglio ripetere qualche cosa che cosa devo ripetere poi i passi successivi sono ok allora a questo punto qual è la condizione una condizione una regola che mi dice quando ho finito di ripetere ciò che dovevo ripetere quando l'ho fatto dieci volte quando un flag diventa vero quando una certa condizione booleana diventa vera eccetera eccetera allora a questo punto mi do la regola quando cominciare e quando finire cerco di capire qual è la condizione di uscita soprattutto e a quel punto posso decidere se ho usato un'istruzione for o un'istruzione while l'istruzione while va bene sempre è la più generale e il for è un caso particolare che funziona se io mi accorgo di saperti dire a priori quante volte devi fare l'iterazione e allora definisco un range opportuno che mi contenga esattamente quel numero di valori nel caso di un ciclo while devo inizializzare sicuramente le variabili di controllo del ciclo ma anche in un caso di un ciclo for devo comunque inizializzare prima del ciclo tutte le variabili che userò all'interno del ciclo questo già lo sapevamo inizializzare variabili qui ce l'avevamo anche quando lo facevamo l'ho cancellato la somma dei numeri da 1 a 10 all'inizio ho messo somma uguale a 0 perché se è una variabile che viene aggiornata dentro il ciclo devo inizializzarla prima del ciclo quindi questa regola qua non ce la toglie nessuno ovviamente e poi dopo che il ciclo è terminato avrò pronti i risultati nel caso del valore della somma o altro che poi posso andare avanti continuare ad eseguire se siamo in dubbio facciamola in tracing proprio passo passo iterazione per iterazione vediamo quanto valgono le variabili lo possiamo fare su un foglio di carta come abbiamo visto nella lezione scorsa lo possiamo fare con il debugger come abbiamo visto invece fare oggi che ci aiuta sicuramente a capire che cosa facciamo una volta che abbiamo capito queste cose chiaramente possiamo poi passare l'implementazione ma il ragionamento diciamo così segue sempre questi passi il passaggio successivo che vi accendo in questi primi minuti ma non è non aggiunge diciamo così molto dal punto di vista concettuale aggiunge un pochino dal punto di vista della complicazione della contorsione è il fatto che una volta che abbiamo capito cos'è un ciclo lo possiamo annidare all'interno di altri cicli così come già con il condizionale con l'if avevo un if e poi mi sono accorto che dentro il ramo dell'if oppure dentro un s potevo mettere un'altra if e a sua volta ne potevo mettere un'altra e le annidavo una dentro l'altra e la prima volta che l'ho fatto mi spaventava ma adesso siamo così siamo tranquilli non ci da nessun problema la stessa cosa può succedere con i cicli possiamo avere bisogno di annidare dei cicli uno all'interno dell'altro la regola è sempre la stessa semplicemente rientro l'indentazione di nuovo di un altro po' di spazi e scriverò il corpo del ciclo interno a quello precedente come si comportano due cicli annidati? si comportano in un modo un pochino più complicato perché visto che un ciclo ripete un blocco di codice il ciclo annidato a sua volta ripeterà un blocchettino più piccolo di codice e lui quello interno esegue le sue istruzioni un certo numero di volte e quello esterno eseguirà se stesso un certo numero di volte ma ogni volta che quello esterno si ripete una volta quello interno dovrà fare tutto il giro completo detto così non si capisce tanto ma vediamo un esempio molto semplice e poi domani invece attacchiamo questo esercizio qua che è un pochino più articolato ma ci permette di capire meglio quindi riprendo di nuovo il mio caro PyCharm e quindi immaginiamo di avere un normalissimo ciclo che va da 0 da 1 a 10 1,11 quindi se volete posso stampare i e mi stamperà i numeri da 1 a 10 la cosa più banale che può esistere poi però decidiamo che all'interno di questo ciclo ne facciamo un secondo inserito annidato dentro il primo questo questo lo facciamo magari su una variabile j non posso usare la stessa variabile di controllo per due cicli diversi ogni ciclo deve avere una sua variabile di controllo altrimenti perdo il conto e lo faccio magari più piccolo in range da 1 a 3 1,4 e quindi qua potrò stampare magari separato con un po' di spazio dei trattini il valore di j allora che cosa succede qui e poi potrei questa è la versione minima succede che il ciclo for più esterno quello che ha come variabile di controllo i verrà eseguito 10 volte con i valori i uguale 0 i uguale 1 i uguale 2 fino a i uguale 10 quando i vale 1 stampa 1 questa print e poi cosa farà e poi inizia fa quello che c'è scritto inizia un altro ciclo sulla variabile di controllo j che assume i valori 1 2 3 per ciascuno di questi valori j 1 2 3 stamperà trattini 1 trattini 2 trattini 3 poi quando ho finito tutto questo quindi quando ho stampato le tre volte tornerà su a chiedersi ok ho finito questa istruzione questa istruzione era parte del corpo del ciclo che iniziava la riga 1 e quindi mi devo chiedere se devo iterare un'altra volta sulla variabile i certo che sì perché l'ho fatto con 1 adesso devo farlo con 2 quindi i a questo punto vale 2 stamperà il 2 e questo for 1 2 3 su j viene ripetuto di nuovo vediamo cosa esce fuori se io faccio run di questo mi stamperà 1 che arriva da qua 1 2 3 che arriva dalle tre iterazioni di questo ciclo più interno 2 che arriva da qua 1 2 3 che arriva dalle tre iterazioni di questo ciclo più interno e così via quindi vedete che ogni volta che nel ciclo più esterno faccio una iterazione ma dentro il corpo del ciclo esterno c'è un altro ciclo più interno allora farò tutte le iterazioni del ciclo più interno per ognuna delle iterazioni del ciclo esterno poi quando farò alla seconda iterazione del ciclo esterno farò di nuovo tutte le iterazioni del ciclo interno e così via se lo vediamo col debugger si vede cosa succede parte da qui i uguale 1 come normalmente fin qua è tutto normale non è successo nulla i uguale 1 poi qua alla riga 3 lui dice va bene devo creare un range di tre valori e devo inizializzare la variable j all'inizio di questo range e lo faccio metto j uguale a 1 perché questo range inizia da 1 e poi farò l'istruzione successiva qual è il corpo di questo ciclo beh semplicemente costituito solo dalla riga 4 allora stamperò questo l'ho stampata qui incremento j torno su mi chiedo se ho finito il range non ho finito il range e quindi j vale 2 posso stampare il 2 torno su mi chiedo se è finito il range eseguo semplicemente la regola che abbiamo visto prima per le iterazioni semplicemente adesso questo ciclo è all'interno di un altro ciclo e quando ho finito il ciclo più interno ritorna a chiedersi se deve fare un'iterazione in più sul ciclo più esterno se inserisimo nel ciclo di dato un intervallo non compreso un intervallo del ciclo esterno che cosa succederebbe sono indipendenti sono assolutamente indipendenti questi due intervalli se io questo lo conto da 1 a 10 quello esterno quello interno lo conto da 40 a 45 sono due diciamo così valori separati noi li vedremo domani pensando di soprattutto come matrice cioè magari un ciclo esterno con tale righe e quello interno con tale colonne e ad ogni iterazione combinata abbiamo un valore del ciclo esterno e un valore del ciclo interno che a questo punto assumono tutte le combinazioni possibili Emanuele mi chiede perché le istruzioni del ciclo interno la visualizzate anche in 4 non doveva fermarsi a 3 lui non ha fatto il 4 cioè se vado a vedere questi 4 5 6 sono i valori di i cioè il ciclo esterno ma nel ciclo interno cioè il j stampa sempre solo 1 2 3 1 2 3 e così via ok ma io volevo mettervi questa pulce nell'orecchio prima di finire la lezione così avete tempo di cominciare a rimuginarci e domani proviamo a vederlo come dicevo non c'è nulla in più da imparare cioè il concetto è esattamente quello del ciclo wild e il ciclo for di prima si tratta di imparare a usarlo cioè metterlo in pratica con qualche esercizio come qualche esempio vedendo quando diciamo così ci può tornare utile o necessario annidare il ciclo in questo modo il ciclo interno fa solo i numeri di j da 1 a 3 ma si ripete con la i che va fino a 10 ma non voglio sforare troppo il tempo quindi magari lo ce lo riguardiamo con calma ma domani lo riprendiamo come dicevo con un esercizio che vi ha anche un pochino più di senso ok provate a scrivere magari questa cosa qua guardarlo passo passo nel debugger perché come dicevo già prima all'inizio dell'ora l'importante è fare esercizi il nostro amico ovviamente è sempre il debugger o python tutor che oltre a fare le cose passo passo ci fa anche vedere i valori che assumono le variabili va bene allora io vi lascerei questa sera e ci rivediamo domani mattina per continuare su questo argomento e domani nelle tre ore faremo vari esercizi diciamo così che ci faranno un po' di ginnastica un po' di esperimenti con questi cicli che abbiamo imparato finora per ora buona serata e ci vediamo domani mattina ciao a tutti ciao a tutti